L'informativa me l'ha dato un collega oncologo e ho capito bene il progetto di questa associazione dove tutto è volto all'implementazione della ricerca anche in campo scientifico. Noi in Italia abbiamo tanta necessità di implementare la ricerca scientifica. Penso che la semplice partecipazione che vedo così numerosa a questo evento ci fa capire che l'attenzione che comunque c'è qui in Italia per la ricerca è importante. Quindi credo che partecipare a questi eventi possa essere un messaggio da dare anche a livelli più alti.